Rolando, prima doppietta in carriera al debutto in Coppa Italia, dopo un precampionato in cui hai dimostrato di avere il piede caldo, a che punto è la tua condizione fisica? La mia condizione è a posto, mi sento molto bene, come tutta la squadra stiamo lavorando per farci trovare pronti all'inizio del campionato e all'inizio delle gare ufficiali, come è stata la Coppa Italia, abbiamo dimostrato di esserci, adesso vogliamo iniziare bene anche per quanto riguarda il campionato. Hai ringraziato chi ti sostiene dopo la partita con il Sud Tirol, ma anche chi ti critica perché ti tira fuori il fuoco dentro, sei a secondo anno Udine, dopo un primo anno di ambientamento, pensi che possa essere un anno importante per fare un definitivo salto di qualità? Sì, ho esattamente ringraziato sia chi mi sostiene sia chi mi critica perché, ripeto, mi accende il fuoco dentro di me e mi spinge comunque a migliorarmi, ad andare sempre oltre. Poi io lavoro e spero che questo possa essere l'anno del salto di qualità, di riuscire a fare meglio di come ho fatto l'anno scorso, me lo auguro. Dal mercato, proprio in mezzo al campo, sono arrivate pedine come Iaialo, come Wallace, pensi che la concorrenza interna possa aiutarvi a crescere anche come singoli oltre che come squadra? Sì, sì, sono del parere che la concorrenza interna faccia sempre bene, ci aiuta a migliorare, ci aiuta a spingerci oltre i nostri limiti perché per giocare devi dimostrare di essere all'altezza e sicuramente devi far meglio di un altro. Quindi una sana competizione fa sempre bene, sono contento di questo e la prendo con tranquillità ma con la giusta determinazione. Qual è secondo te l'obiettivo della squadra dell'Udinese? La salvezza o qualcosina di più? Io credo che come primo step dobbiamo raggiungere la salvezza, dopodiché possiamo pensare a qualcosina in più ma l'obiettivo principale per quanto riguarda l'Udinese è la salvezza, dopodiché penseremo di partita in partita per raggiungere degli obiettivi migliori perché sognare non costa nulla. A proposito di sogni, il tuo obiettivo personale è quello magari di tornare a rivestire l'azzurro in vista dell'europeo? Sì, sicuramente, quello è un grande sogno, lavoro anche per quello, lavoro per farmi trovare pronto dal CT qualora decidesse di chiamarmi, di convocarmi. Quindi sì, è un obiettivo ma soprattutto un grande sogno. Si sta parlando molto in chiave a mercato di Rodrigo De Pol, secondo te il progetto tecnico dell'Udinese ruota ancora attorno al numero 10 argentino? Rodrigo per tutti noi è un giocatore importante, l'ha dimostrato l'anno scorso con le sue prestazioni, con i numeri che parlano chiaro. Poi le altre valutazioni non aspetta a me farle, sia per quanto riguarda il progetto tecnico dell'Udinese o altro. Io posso solo dire che qualora decidesse di restare qui con noi, come accade in questo momento, perché Rodrigo per adesso è un giocatore dell'Udinese, noi tutti siamo felicissimi e abbiamo voglia di condividere questo percorso insieme a lui. Poi se dovesse fare un'altra scelta gli auguriamo il meglio. Il presente si chiama Milan, cosa ti aspetti dalla gara di domenica e cosa ti aspetti dalla formazione di Giampaolo, che è un tecnico che deve proporre da capo il suo calcio in un'altra realtà? Sì, sicuramente mi aspetto una partita contro un avversario di un livello importante. Conosciamo tutte le qualità del Milan, siamo tutti a conoscenza della squadra forte che è. Conosciamo anche Giampaolo perché fa parte del calcio per me da un po' di tempo, l'anno scorso è stato alla Sampdoria, ha fatto un ottimo campionato, promuone sempre un bel gioco, quindi sarà un piacere poter affrontare il Milan e Giampaolo, ma spero che possano partire bene dalla seconda giornata. Noi vogliamo fare bene, abbiamo voglia di partire anche noi con il piede giusto, quindi sicuramente faremo una partita con coraggio, con voglia e con determinazione davanti al nostro pubblico.